io faccio di tutto quindi con me non dovete parlare no che cosa accusi ho visto che insomma hai avuto da ridire con nicolas sul riso chi l'ha cotto chi si lamenta è uscita male era l'unico giorno che non avevo voglia di fare niente mi sono vestito bene mi sono messo una camicia bianca un pantalone nero bellissimo non ho cucinato è uscito tutto male come il giorno di riposo si si me lo sono preso nicolas ma tu ce l'hai con qualcuno in particolare perché chi prende il sole chi passeggia chi si fa i fatti propri con geremia vuole dire pure con le persone con le quali stai bene a cui vuoi bene dopo un po ti scontri ci siamo scontrati perché la battuta per me era infelice avrò esagerato infatti glielo ho detto mi dispiace tra l'altro con geremia si però non ho voglia di litigare però è capitato ci siamo usato ero nervoso scusa però però te l'hanno detto tutti che stavamo che stavo scherzando non ero io solo a dire che stavo scherzando voglio sentire gli altri naufraghi ma è vero che non fate nulla siete d'accordo con nicolas guindalina perché io l'hanno accusata perché le ragazze saremmo io e stefania e carmen che ci facciamo un lazzo così ci abbiamo sonno la sera proprio perché durante il giorno siamo andate a prendere i ponchiglioni grazie a tutti